Ciao Zuccheri, benvenuti in un nuovo video, chi non muore si rivede, ve l'ho detto già che la mia presenza sarebbe stata un po' così sporadica Mamma mia, io ho il vizio di lasciare tutti i cassetti avverti, comunque giusto per precisare, non avevo voglia di truccarmi, non avevo voglia di farmi capelli, non avevo voglia di fare niente E una cosa che mi fa sempre molto ritire, che poi io da qui non lo vedo, ma poi lo vedo in editing, è tutto il mio background, che sembra fatto apposta, ma in realtà no, tutti questi puntini che vedete raga, sono le mie lentigini Non so se già ve l'ho detto, però sì, quindi è inutile anche imbiancare se tanto sono sempre lì a farmi le lentigini e che tanto siamo sempre allo stesso punto Potrei mettere un telo, avete ragione, ma non ho voglia Comunque, prima di iniziare questo video, raga, ve lo dico, mettetevi rilassati, se mi volete vedere per 40 minuti, vedetemi per 40 minuti Se non ci avete sbatti, uscite dal video, ormai lo sapete, la prendo molto così Avrete tante cose da raccontarvi, della mia vita, di come sta andando, di che cosa sto facendo, tanti aggiornamenti ci sarebbero Ma non è questo il video, magari lo vediamo una prossima volta, però sì, sappiate che ci sono tanti aggiornamenti Tantissime cose sono ancora un po' così in balia, che ancora non sono decise, non sono sì, non sono no, non sono niente Dobbiamo vedere, però questo non è il video giusto, perché in questo video andiamo a, anzi andrò a farvi vedere tantissimi prodotti che mi sono arrivati e che continuano ad arrivarmi Infatti anche oggi me ne sono arrivati alcuni, freschi freschi, di tantissimi brand, principalmente beauty Sono sicuro che mi dovranno arrivare altre cose, perché ho visto alcuni lanci di altri brand che 99% mi arriveranno, quindi nel caso vi aggiungerò delle clip Iniziamo con la nostra amica Uda Beauty, che adesso questa ve la faccio vedere alla veloce, perché in realtà già l'ho ricevuta E ogni tanto Uda ha questo vizio di mandare prodotti così per scorta, ed è la cipria, quella rosa, che si chiama la Cherry Blossom Cake Ed è appunto la classica cipria in polvere libera di Uda, ma nella versione rosata, che appunto io già ce l'ho, la utilizzo con moltissimo piacere L'unica zona, diciamo, dove mi piace utilizzarla un po' di più è nel contorno occhi, su tutto il resto del viso, non più di tanto O comunque sul resto, cioè nella parte degli occhi mi piace... che cos'ho qui, un brillantino? Nella parte... non si toglie il brillantino, vabbè Mi piace molto utilizzarla nel contorno occhi, mentre su tutto il resto del viso preferisco sì utilizzarla, ma magari con un puff O comunque con un pennello un pochettino più ampio, in modo che in questa zona mi piace, perché comunque va a riprendere i toni anche del blush Mentre su tutto il resto del viso preferisco non far vedere troppo il rosato Anche perché poi considerate che il rosato su una carnagione olivastra non è che stia poi chissà quanto bene Quindi sono quei prodotti che fanno la differenza, perché si vede, e migliorano il make-up, ma è un attimo a rendere tutta la pelle grigia A parte quella è uscita, comunque se mi sentito un po' strano è perché sono raffreddato raga Perché ultimamente sarà anche con la palestra, sarà anche dentro casa e tutto quanto Ovviamente dove vai vai c'è uno sbalzo di temperatura incredibile Quindi in palestra ci sono 19 gradi, poi esco fuori e ne fanno 50, poi entro dentro casa e c'è l'aria condizionata Cioè tutto uno sbalzo, vado nei supermercati, stessa cosa E quindi ovviamente mi sono già raffreddato E infatti Uda ha fatto uscire una nuova collezione, in un certo senso, di correttori Però tutti incentrati sul color correcting per quanto riguarda l'occhiaie Allora, io fortunatamente non ho tutta questa occhiaia che dici Madonna, ho bisogno di un aranciato per coprirlo Sicuramente a volte utilizzo dei correttori, magari anche prima, che hanno una punta di pesca Però anche se sono leggeri, cioè che hanno un pigmento pescato leggero, a me vanno bene uguali Perché comunque me lo contrasta molto bene Magari, chi lo sa, in futuro avrò delle occhiaie nere come la pesce, quindi ne avrò bisogno Però nel frattempo così ve ne faccio vedere uno a caso Prendiamo questo che già l'avevo aperto Spero riusciate a capire che le tonalità sono belle scurette E sono principalmente aranciate, quindi ecco Cioè potrei, tra tutte quelle che mi hanno mandato, forse quella che io potrei utilizzare è questa qui Madonna, ma non si capisce niente Poi con le luci rendono sempre un po' più chiaro, però sono belle scure E devo capire se la texture è uguale a quella dei correttori, diciamo, di questa linea classica Perché se è la stessa non mi fanno impazzire, già ve lo dico Perché per quanto mi riguarda sono troppo asciutti Così ad occhio, secondo me, sono un pochettino più idratanti Allora io dovrei avere anche un... Vediamo se non l'ho buttato Perché giustamente Uda mi manda le PR con poi i fogli e la descrizione del prodotto Io che cosa faccio? Li prendo e li butto Giusto? Ragazzi, eccoli qua Fatemi vedere se c'è qualche riferimento al fatto che siano più o meno idratanti Con la nostra nuova formula cremosa, confortevole e trasparente Arricchita con un cocktail illuminante di principi attivi come la vitamina C e la niacinamide Per attenuare la pigmentazione e illuminare la zona sotto gli occhi Sono a prova di sudore e no transfer Beh, allora, io ogni tanto vado in palestra truccato Ovvio, non è uno di quei make-up che dici, madonna, una drag Però mi sistemo Vi ripeto appunto, non pesantissimo Però potrei utilizzare questo, nello specifico, che si chiama Pink Pomelo Perché secondo me gli altri sono veramente tanto scuri Che ci sta anche ovviamente per diverse carnagioni Però appunto potrei utilizzare una puntina di questa con poi sopra un po' di correttore Anche se solitamente non metto il correttore per andare in palestra Metto tipo una BB cream, cioè allora ve lo faccio vedere Quello che metto per andare in palestra è questo Cioè raga, che per me è questa In realtà non è una BB cream, è un fondotinta proprio È una moisturizing skin tint Raga, cioè ne ho finite due e voglio ricomprarne un'altra Io uso il colore 160 vaniglia che è un tono più scuro Però l'ho messo come al solito con le mie drops di Revolution In questo caso è bianca E quindi lo schiarisco Cioè questo è una di quelle skin tint leggeri Ma allo stesso tempo coprendo Cioè che ti coprono magari sedie rossori Ma rimanendo iper naturale Cioè è bellissima, veramente bellissima Ho anche l'altro colore che è il 201 Penso che una volta finito questo Che è quello più simile al mio incarnato Inizierò a lui È il doppio più scuro Ma aggiungerò un po' di più di gocce bianche E lo schiarisco Nel frattempo diciamo per non stare a ricomprare altri prodotti Che già ne ho tanti Però appunto Solitamente metto quello Quindi potrei fare una punta di questo Nel contorno occhi E poi sempre nel contorno occhi Passo quella lì Perché comunque si adatta Non va nelle pieghe Devo dire che Anche se non metto il correttore Con quella non succede niente Vi farò sapere Se effettivamente resiste al sudore E al non transfer Eccetera eccetera Devo dire che Il fatto di aver arricchito la formula Con delle cose un pochettino più idratanti Mi piace E soprattutto si sente Già solo appena applicato E a proposito di Huda Credo che Spero anzi Che mi arriverà il nuovo profumo Che è uscito di Cagliali Perché Veramente Veramente Quello lì ispirato al matrimonio Tipo wedding day Wedding qualcosa Non mi ricordo come si chiama Elemis Sono troppo contento Vi faccio vedere questi prodotti Ma poi li vedrete anche un pochettino più nel dettaglio Su Instagram Se non mi seguite su Instagram Sotto nell'info box Avete tutti i link E lo vedrete più nel dettaglio Perché appunto Devo fare una sponsor O avrò già fatto Quando uscirà questo video Non lo so Una sponsorizzazione con loro Su Instagram E mi hanno dato la possibilità Di selezionare alcuni prodotti E io ho voluto selezionare Delle cose Che già conoscevo Proprio perché Appunto Già conoscendole So di cosa vi sto parlando Ve le posso consigliare Perché vi piacciono Ho qualcosa a questo occhio Adesso me lo cavo Raga io comunque Ultimamente C'è con gli occhi Ho gli occhi Che sono frascichi Cioè letteralmente Mi danno fastidio Di un Qualsiasi cosa Allora come vi ho detto Non mi sto truccando Chissà quanto Mi si stanno appiccicando Le cosce alla sedia Non mi sto truccando Chissà quanto E quelle rare volte Che mi trucco Magari un po' più pesante O magari per fare Un qualcosa di più su Instagram Non lo so Quando mi strucco Raga sembra che veramente Mi abbiano preso a pugni Cioè non sopporto più niente Sugli occhi È diventato incredibile Mi sento sempre delle cose Dei peletti Dei puntini dentro gli occhi Non so di cosa Magari sono una mia impressione Però sto tutta la giornata A martoriarmi gli occhi E poi arrivo la sera Che sono stanchissimo Perché mi danno senso Di pesantezza Incredibile Comunque Ho scelto Di farmi mandare Il Procollagen Ai Renewel Oh madonna Renewel Renewel Ve lo faccio vedere Eccolo qua Che è appunto Un contorno occhi Al collagene I prodotti E le messe Raga Per la skin care Sono meravigliosi Per non parlare Dei pack Che sono stracarini Adesso sono ancora nuovi Perché Poi per la sponsorizzazione Voglio farli vedere Diciamo Puliti Diciamo Non ancora utilizzati Però appunto Ho già utilizzato In passato I loro prodotti Mi sono piaciuti Da morire Ho fatto un po' Il Proprio la base 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 Della skin care Quindi contorno occhi Siero e crema Cioè niente di Troppo incredibile Anche per Magari chi Non è abituato alla skin care Però vuole approcciare Sono comunque Sono comunque Dei prodotti ottimi Però appunto Potete iniziare Con i tre Che magari vi consiglio Che sono in questo caso Loro E poi uno Non so Se ci prende la mano Se vi piace Se avete la passione Tutto quanto Potete Decidere di allargare Un po' La vostra Collezione Per la skin care Però ovviamente io A parte Elemis Solitamente con la skin care Faccio tanti passaggi Però per il momento Con loro Voglio farvi vedere Le cose più essenziali Più Basiche Questo qui è il Pro Collagen Rose Hydro Mist Che è appunto Un super hydrating serum In mist Quindi appunto Oltre a mostrarvi Un siero In questi prodotti qui Perché comunque Il siero è importantissimo L'ho voluto prendere Ho voluto prendere Questa versione in mist Quindi proprio per Facilitarvi ancora di più L'utilizzo Se magari Non conoscete i sieri Non sapete come approcciare Oppure non avete voglia Di stare lì a massaggiare cose Lui è il spray Quindi Raga Cioè meglio di così Non si può Anch'io che comunque Sono bello avanzato Con la skin care Preferisco tantissimo Le cose pratiche Perché io sono una persona Pratica Quindi se c'è un qualcosa Che mi può rendere Più semplice L'utilizzo Pazzesco Perfetto E poi passiamo a lei Che tra l'altro È anche uno dei best seller Di Elemis In questo caso Non so se è stato un errore O altro Perché avevo chiesto Due tipi di creme Differente Una giorno e una notte Ma me ne sono state mandate Tutte e due uguali Quindi ve la farò vedere una Che è la Pro Collagen Marine Cream Con SPF 30 Anti Wrinkle Hydrating Day Cream Non so come ammenarvela Su tutte le proprietà Che ha questa crema Perché veramente Ne ha tantissime Mi limiterò A far vedere solo Magari il pack Così Eccolo qua Poi se volete più informazioni Andate a vedere sul mio Instagram Appunto vi ripeto Non so se sarà già uscito il video Oppure no Però anche se magari Digitate su Google Il nome di questa crema Vedrete che ha un sacco di proprietà E infatti la potete utilizzare Questa nello specifico La potete utilizzare Tutto il giorno Perché comunque Non appesantisce la pelle Anche soprattutto In estate Che io Nello specifico Trasudo tutto quello che metto Con questa Mi trovo d'addio E poi ovviamente C'era anche la versione Da notte Che è bella ricca Quindi se avete una pelle secca Quella è ancora più Un boost di idratazione Però nel frattempo C'è lei che potete mettere Sempre Anche prima del make up O senza niente Perfetta Passiamo a Mesauda Che Mesauda mi manda Sempre i prodotti In anteprima E quindi ogni volta Ho paura di mostrarli Perché non so mai Se effettivamente Sono già usciti Oppure no Perché giustamente Sarebbe mia premura Andare a controllare Sull'ora Instagram Però non lo faccio mai Comunque Qui abbiamo In skin In skin Mate Dovrebbe essere Non credo che si legga matte Mate Ma credo mate Vabbè comunque Poi tra l'altro raga Parliamo del Pierre Peck nuovo Che hanno fatto Mi piace tantissimo Finalmente hanno cambiato Un po' estetica All'interno abbiamo Per la maggior parte Blush E qualche terra Allora avendo fatto Una linea make up Comprendo benissimo Che è difficilissimo Far rendere Il colore Del prodotto Uguale a quello Che magari Mettono su carta Quindi sul pack Secondario O sulla PR box Quello che è È difficilissimo Però Capite Cioè Mi sembra un tantino Diverso Ecco Questo colore Secondo me è bellissimo Te ne prendo poco Pochissimo Ah e mi sono dimenticato Di dirvi che sono In crema Allora siccome di questo Ho già fatto una clip Con il mio telefono Non vi metterò quella Perché altrimenti diventa impossibile Una cosa che nel frattempo Che va la clip Qui di lato Vi dico È che mi piace tantissimo Questo che è Il 105 Good times E Hanno questa Grana Bellissima Che mi dispiacerebbe Anche rovinare Non l'ho ancora toccato Non l'ho fatto niente Quindi penso che lo farò Adesso per la prima volta Con voi Hanno però questa grana Stupenda Che sembra polvere Ma in realtà è in crema E Appunto mi piace tantissimo Perché è Secondo me la giusta tonalità Sia per fare contour Ma anche un po' bronzing Cioè proprio Quel colore Passpartout Quindi swatchamolo Per la prima volta Mmm Sono belli Ma Maraca Questo colore Scusate Eh infatti Ma mi sembrava Allora di capire bene Questa cosa Ormai riconosco i prodotti Anche solo alla vista Sono dei cream to powder Cioè È tempo che lo stendi E si dissolve Cioè non senti più La crema Senti solo L'effetto polvere Cioè State vedendo quanto si diffonde Talmente tanto che A tratti sparisce Se tutte le texture sono così Poi Capita che magari tra un blush E un bronzer Possa cambiare un pochino Andiamo con Skips and Beat Che è uno dei blush Più strong Che è in questa PR box E vediamo se Anche lui Bello Cioè raga Ma Ma di che parliamo Ma stupendi No questi Questi li voglio provare In palestra Perché di solito I cream to powder Sono quelli più resistenti Poi in viso Bello Bellissimo Questo colore Mi fa volare Veramente È proprio un Ciliegia Forte Bellissimo Complimenti Mesauda Feeling Yourself Che è sempre un blush Mi ricorda molto Quello in crema di Charlotte Vabbè Non mi rimetto a cercare Quello di Charlotte Perché Ci vorrebbe Un'ora Bello Questo Questo secondo me Anche sulle labbra Tamponato È la morte sua Dove lo mettiamo? Qua No sono impressionato Dalla Dalla texture Cioè Sembra di mettere Veramente una polvere Non fanno macchia Non Niente Cioè Bellissimi Bellissimi Anzi che rendono Anche così Levigata la pelle Stupendi Pixi Ultimamente Pixi Sta veramente Mandando delle Per box Stupende Prima di questo Mi hanno mandato Un'altra roba Comunque Al momento Io sto facendo Tutta La skin care Proprio tutta Quindi Anche il Per dire I prodottini Da mettere Sui Sui Brufoli Eccetera Eccetera Quindi Siero Contorno occhi Crema Eccetera 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 All'acido Staticirico Di Pixi Appunto Che mi hanno mandato Forse prima di questa Pure Pack O prima ancora Perché mi ricordo Che mi hanno mandato Un altro prodottino Prima di questo Ah era un panno Con Ah si Era un panno Tipo in microfibra Con un prodotto Da mettere Su Viso e decolleté Da fare in doccia Quindi tipo State in doccia Mettete quello Come se fosse una maschera Aspettate qualche minutino E poi la risciacquate Proprio c'è scritto Da fare in doccia E io devo dire Che l'ho fatto Ho visto differenza No Quindi Questa collezione qui Clarity Fa parte appunto Della collezione Skincare Di Pixi Ed è un Clarity mist Con Sica per E acido Ialuronico In questo prodotto Qui in spray Che è fatto così Non l'ho neanche aperto Ho ancora tutta La plastica intorno Perché Preferisco un attimo Finire i prodotti Nicheo Clarity Blemish Sticker Che sono quei patch Che vanno Sul Sui punti neri Sui brufoli Sulle macchie Eccetera eccetera E sono dei prodotti Che utilizzo tantissimo Però anche di questi Per dire Io sto utilizzando Quelli di Come si chiama Non mi ricorderò mai Eccoli qua Vi faccio vedere Che ce l'ho a portata di mano Perché li utilizzo sempre E sono quelli Di peace out Che in realtà Cioè qui Questi nella versione Che mi hanno mandato Un po' di tempo fa C'è scritto appunto Per dark spot C'è anche l'altra versione Tipo proprio per l'acne Che in teoria Sarebbe più specifica Per quello che ci faccio io Però devo dire Che questi qui Io appunto Non li metto sui punti neri Ma li metto Sulle bolle date Da tra virgolette acne O comunque proprio tipo Sui brufoli E funzionano uguali Dentro ci sono due di queste Io ho già finito Un'intera confezione Adesso ne ho iniziata un'altra Quindi anche qui Tempo che finisco loro Inizierò questi pixi Andiamo avanti Con un pacco Che mi è arrivato proprio oggi Quindi è freschissimo Sto parlando di Kiko Che ultimamente Kiko sta inviando Queste PR box Quindi senza le scatole Tipo così Ma sta mandando Letteralmente degli zaini Prima di questo Ha mandato uno zaino Tipo sul verde Oliva chiaro Che era tutta la linea green Quindi fatta Con tutti gli ingredienti Di origine naturale Ed è bellissimo Quello zaino Tant'è che lo utilizzo spesso E adesso hanno Mandato questo qui A tema pride In un certo senso Beh Credo che a questo punto Lo utilizzerò Al pride di Milano Che 100% Quando vedrete questo video Sarà già passato Perché a Milano è il 24 Dentro questo bellissimo zaino C'erano Questi prodottini qui Partiamo con le due Palette occhi Queste si chiamano Cult colors Mi hanno mandato La 01 e la 02 La 01 è questa qui Che è fatta con Un mix Di opachi E shimmerini Ok L'unica cosa Che ho notato Che secondo me Queste cialde Sono di un fragile Incredibile Perché mi sono arrivate Che erano un po' Anche perché Sono quei pack Che sono talmente Incastonati All'interno Della plastica Che quando ho aperto La cosa Sembrava un disegno Cioè sembrava tipo Una cartolina Che potevate togliere Talmente sono piatte Le cialde Ok E alcune Stavano uscendo Leggermente fuori Perché secondo me La grana di queste polveri Avendole tocchicciate Un pochettino È molto molto sottile Si percepisce proprio Che sono fragili Comunque questi Sono i colori Della 01 Mentre nella seconda Che appunto Anche qui Mi sono arrivate Alcune cialde Un pochettino Rotte Cioè sollevate rotte E ho cercato Di ricomporle un pochino Non si nota niente È tutto pazzesco Questa A differenza dell'altra È tutta Completamente shimmer Tutta Due matitoni 25 e 21 Che si chiamano Long lasting stick A shadow stick E sono appunto Degli ombretti Questa è la 25 Queste che sono Sono stra interessanti Lei Per dire Ce l'ho swatchata qui Che l'ho swatchata prima Ho lavato le mani Ho fatto cose Non si è tolta Eppure sono Iper cremosi Vi faccio vedere Allora Questa è una Che è proprio un silver Grigio Grigio chiaro Bellissima E l'altra È la numero 21 Questa mi fa impazzire Perché è un grigio Un po' più scuro Con È leggermente più Trasparentina di questa Quindi non è così Full of pigment Ma con tutte perle Celesti Questa secondo me Su uno smokey eyes Nero Cioè è bellissima È meno pigmentata Dell'altra Ma ha più Perle Celestine Cioè proprio A tratti sembra anche Duochrome Ho visto dal vivo In video rende sempre Un po' così A caso Numero 13 Hydra shiny lip stylo Capite eh Capite la prepotenza Di questo 513 Jelly Stilo Che è quest'altro Anche lui Bello Più luminoso E viola Ultimo Ma non per importanza Per quanto riguarda Kiko Anzi secondo me È la cosa più bella Perché era uno di quei prodotti Che effettivamente Volevo provare da un po' E poi ho detto Vabbè se mai ci sarà occasione Lo provo Non era così Eclatante O comunque da voler subito 01 3D Hydra Lip Gloss Gloss Trasparente Quindi non stiamo parlando Di chissà quale prodotto Rivoluzionario Però Ne ho sentito parlare Molto bene Passiamo avanti Con un altro prodotto Che Già vi dico Questo l'ho provato Avevo provato a farci un tiktok Però Raga io non ce la posso fare Con tiktok È più forte di me Cioè Non mi bastano i minuti Cioè io Ero arrivato a 3 minuti di video Perché di più Non me lo da Non mi da Il timing dei 10 minuti E A 3 minuti Io non avevo praticamente Neanche spiegato Di che cavolo stessi parlando Cioè proprio Non faccio in tempo Io Sono nato da youtube Penso che rimarrò fedele Da youtube I miei 40 minuti 30 minuti di video Perché Non ce la faccio Raga Mi potete anche sbattere In faccia del muro Per me tiktok È sempre un po' Così Un mondo ancora mistico Che non capisco Cioè lo guardo volentieri Ma se devo registrare Io dei contenuti Mi rimane sempre un po' difficile Comunque Sto parlando di Astra Che è uscita con il Con un nuovo fondotinta Che però Può anche essere un balm Può essere una base Può essere un bronzer Può essere tutto Ma in realtà non può essere niente Perché raga Non mi piace Cioè è uno dei fondotinta Più brutti Che io abbia mai provato Mi dispiace dirlo così Di getto Però è quello che penso E Questi che vedete qui Sono tutti diciamo sample Loro mi hanno mandato Il numero 02 Che è questo qui In alto E effettivamente è il mio colore Quindi su questo Ce l'ho anzeccato Stanno perdendo olio Da tutte le parti E una cosa Per il quale Allora il pack Mi piace tantissimo Che poi l'idea È anche geniale Adesso Non fate caso Che è sporco Dentro perché Come vi ho detto L'ho utilizzato Ero molto curioso E cioè perché Mi aveva incuriosito Un po' Proprio la situazione Poi anche Il pack è diverso Da tutti i classici fondotinta Che ha sempre lanciato Astra E raga Per quanto sia bella l'idea Quindi quella di fare Un prodotto Che può essere balm Può essere bronzer E tutto quanto Ma è un mix Di oli E cere Che adesso Cioè Io voglio sapere Anche solo da chi l'ha pensato Come fai A pretendere Che un fondotinta Con delle Cioè Proprio alla base Tra i primi ingredienti Ha oli E cere Che non andranno mai Mai Ma proprio mai D'accordo Ok Cioè come mettere olio E acqua uguale E quindi Questa cosa Poi si rivede anche sulla pelle Cioè io lo stendo E questo si separa da solo Cioè lo metti con il pennello Lo metti con la spugnetta Lo metti con la spongia Che ti danno in dotazione Lo provate tutte Raga fa Schifo Mi dispiace Ma non ce la fa Cioè Non funziona Non funziona Anche volendolo utilizzare Come base Per mettere Non so Un altro fondotinta sopra Mi rovina il fondotinta sopra Perché giustamente Se sotto metto una base Che scivola Che non si attacca Perché è cera È olio Cioè Non lo capisco È un prodotto che non capisco No No Comunque Ah non vi ho detto il nome Di questo prodotto Si chiama Compact Foundation Balm E appunto Qui in piccolino Vi scrive Creamy Foundation Slash Bronzer Slash Base Io non ho neanche voluto provare Le col... Il fatto del bronzer L'ho capito dopo Ovvero che queste colorazioni Più scure Si possono utilizzare appunto Come bronzer Come contour Ma io neanche ci voglio provare A utilizzarle così Perché tanto Non mi piace la texture Cioè Siamo proprio partiti male Dalla base In tutti i sensi E quindi no Mi dispiace Lo regalerò Adesso Adesso Io qui Ho Mesi E mesi Di prodotti Catrice E essence Ma mesi Cioè raga Non so se Aspettate Guardate Facciamo così Vi faccio vedere solo Gli ultimi due prodotti Che mi hanno mandato Ultimamente Comunque vabbè Qui sotto c'è una caterbata Di prodotti Che voi non avete idea Ok E ce ne sono tanti Perché poi sapete Che io sono praticamente Oramai Non è scritto Ma ufficialmente Il loro Makeup artist Specialmente di Catrice Perché ogni volta Che c'è un evento C'è un qualcosa Non so Interviste con la stampa O magari Direttamente in sede Da loro E tutto quanto Mi chiamano Per appunto Truccare Chi 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 devo truccare Cioè vi vorrei far vedere Tutti i prodotti Che ho qui Ma sono veramente tanti Quindi magari ditemi Se volete Un video dedicato Magari utilizziamo Tutti i prodotti Cioè li applichiamo Proprio Così riesco a parlarvene Meglio Perché sono Così a parlarvene Un po' Veloce Secondo me Sono troppi Non capirete niente Magari vi do delle info Anche sbagliate Non so Vi voglio però far vedere Dato che siamo in tema Gli ultimi due prodotti Questo vabbè Neanche troppo Si chiama Love Myself Che è un Colored lip balm C02 Love Myself Ed è un Tipo un balm Per le labbra colorato Senza infamia Senza lode Oh madonna Perché non Uh Bello Gnocco Mamma raga Sembra tipo un labello Però fatto A crema Wow Questo secondo me È come blush Per avere quell'effetto Luminoso Che rimane così luminoso Un po' quello salto Che se vi toccate Comunque si trasferisce Però Secondo me è molto bello Io tutti questi prodotti Raga li metto in palestra Mi piace un sacco L'effetto un po' sudaticcio Cioè che io praticamente arrivo in palestra Sembra che già abbia fatto Due ore di Di cardio E a me questi prodotti piacciono Non so voi Comunque vi faccio vedere Molta la veloce Perché mi si sta scaricando Anche la batteria La palette Tema Pride Che si chiama Who I am Ed è di Catrice Ed eccola qui Con tutti questi colori Un pochettino sgargianti Con due cialde Al centro Per il viso Sono un illuminante Che però Già vi dico per me è scuro E un blush luminoso Questa la vorrei utilizzare In un video Quindi fatemi sapere appunto Se volete Questo video dedicato Detto questo I prodotti Al momento sono finiti Poi come vi ripeto Nel caso in cui dovessero arrivarmi Ne altri Aggiungerò le clip a questo video Spero come al solito Di avervi tenendo compagnia Vi mando un grandissimo bacio E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video